We are back bitches Allora intanto tolgo questi occhiali bellissimi Guardate qua li abbiamo comprati a Romics e io e Elliot Molto molto belli Li useremo anche durante i nostri video Allora qui ho la scaletta Giusto guardarmi un attimo le cose Ok allora prima di tutto I video che vogliamo portare Elliot ha appena finito di recuperare Alcune cose per poter Iniziare a fare video anche lui Quindi molto probabilmente dalla Adesso non mi ricordo bene che è data però Da questa settimana farà qualche prova E vi diremo se è tutto a posto Ma dovrebbe essere tutto a posto Per migliorare la qualità dell'easycap Che abbiamo visto che non è una buona qualità Poi al massimo vi faremo anche dei video tutorial Dove vi facciamo vedere come registrare con easycap O come migliorare la qualità dell'easycap Perché non è bellissima E quindi inizierà lui a registrare qualche video Magari su GTA o su altri capitoli così Poi ci consiglierete voi Ok Detto questo vediamo un attimo Ah si giusto volevo parlare delle sponsorizzazioni Io sono favorevole a delle sponsorizzazioni Cosa significa? Ovvero se vediamo che c'è qualcuno interessato A una doppia sponsorizzazione Mi viene da dire Nel senso che io sponsorizzo il suo canale E lui sponsorizza il mio Molto tranquilla come cosa Non è questo non voglio fare come spam Ma semplicemente andare a dire Guardate ragazzi I vostri video sono molto belli Perché ovviamente noi guardiamo i video Non è che siamo quelli che spam 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 Spammano secco senza guardare Niente no Noi guardiamo i video E gli chiediamo ragazzi Volete una sponsorizzazione Oppure venite voi da noi E ci dite Se volete una sponsorizzazione E noi ne parliamo Ovviamente Guardiamo se i video I vostri video sono belli E vi diciamo ovviamente di sì o di no In genere sarà sì ovviamente Poi altre cose Se Come si chiama Se volete dei particolari video Soprattutto horror Avete visto che sto caricando adesso Gli horror che mi stanno piacendo Hanno scaricati già un bel po' E ascolto I vostri consigli Scrivetemelo nei commenti Io tenterò di prendere tutti gli horror Possibili Che mi dite E E poi Vedere Allora Poi Per dare delle informazioni A chi me l'ha chiesto Poi magari se volete Ditemelo sempre Farò dei video tutorial Su questo me lo scrivete Lo faccio Mi ha chiesto Adesso non mi ricordo più chi Mi ha chiesto Come facciamo a registrare Allora Molto semplice Io utilizzo un programma Che si chiama Action Mi Release Action E In poche parole È un programma Come Camtasia Studio Però Camtasia Registra solo Il desktop Mentre Mi Release Action Può registrare Sia il desktop Sia i giochi E può anche Sincronizzare La webcam Direttamente Con il video Questo però Lo può fare Solo con una videocamera Cioè Solo con la mia Ad esempio Che è collegata Al mio portatile Mentre Con Elliot Io devo Prendere la sua webcam E inserirla Nel video Durante il montaggio Video E sincronizzarla Con l'audio Per questo Magari Ci metto Un po' di più A far uscire Quei video Perché Visto che il mio pc Non è così tanto potente Ogni tanto L'audio E il video Miei Sono sincronizzati Perché li sincronizza Il programma Ma il suo Tende ad andare Un pochino più veloce E quindi Devo Operare un bel po' Di tagli Adesso non vi sto Ad annoiare Con tutti i discorsi Però Giusto per dire Giusto per darvi Due informazioni Comunque Da oggi Riprenderà Riprenderanno Di uscire video Caricherò questo vlog Ovviamente E Il prossimo video Che carico Sarà Un altro video Di Treasure Island In compagnia di Elliot E poi Registrerò Un paio Scusate Un paio di video Io da solo Che vi ricaricherò Nei prossimi giorni Vabbè Ragazzi Se Se non siete ancora iscritti Ovviamente Iscrivetevi Condividete i nostri video Su Facebook O su qualsiasi social Che volete Commentate Per avere informazioni Per darci Dei consigli O qualsiasi altra cosa Noi siamo sempre pronti A rispondere Alle vostre domande E a citare I vostri suggerimenti Quindi Non vi preoccupate Voi scrivete E noi rispondiamo E qui dal vostro MrN È tutto Ciao